Cari amici, buongiorno. Non prendete assolutamente impegni per domenica 17 dicembre perché al centro diurno congestito di Trani, in collaborazione con varie associazioni, il bar, caffè, corsaro, dal Dipartimento di Salute Vendale di Trani, organizzano i mercatini natalizi corsari, anno 2023 dove ci saranno bancarelle, musica, giochi per bambini, spettacolo di giocoleria e tanto altro ancora, degustazione di prodotti tipici e soprattutto, se non ricordo male, anche la possibilità di fare fotografie con Babbo Natale e le Nataline, quindi assolutamente da non perdere questo appuntamento, ovviamente tra i protagonisti ci sarò anche io, quindi segnatelo sull'agendina, domenica 17 dicembre, indirizzo via Baldassare 72 Trani, fascia oraria dalle ore 10 circa alle ore 20, quindi avete tutto il tempo di fare altre cose e poi venire ai mercatini, il bar, caffè, corsaro, centro diurno congestito di Trani vi aspetta, la giornata sarà sicuramente bellissima, piena di festoni, noi ci vediamo in quell'occasione, ciao!